Anche questa sera i personaggi di Made in Sud cavalcheranno uno dei palcoscenici più in voga della movida campana. Amici di Notti Brave, benvenuti al Diamond Class! Anche i doppia coppia sono passati sul palco del Diamond Class. Ragazzi buonasera, come state? Buonasera a tutti, mancavamo solo noi in realtà, di tutta la carovana di Made in Sud siamo arrivati anche noi finalmente. Serata fantastica, locale stracolmo, siamo stati contentissimi. Tu sei la voce, il Michael di Made in Sud. Eh beh sì, non solo, poi tanti personaggi come hai visto nel nostro spettacolo, però ovviamente la gente ci conosce per il pubblico, è chiaro. Uno spettacolo esilarante, quello di doppia coppia, ormai i personaggi di Made in Sud. E per me è un onore e un piacere andare poi a questo punto a proporre quello che è lo showbiz partenopeo. Sappiamo che facciamo un lavoro perfetto e questo è il mio più grande, la mia più grande soddisfazione. Ovviamente si è partendo la fine a Balzano col venerdì sera, Stefano Cupri giovedì appunto con il Diamond Lab e poi per finire il sabato notte la peggiorna direzione artistica di Vocusati che ovviamente tutti insieme, la grande famiglia Diamond Rotitale, permette di vivere sia le immagini che l'audio che allo stesso momento, quello che sta succedendo in questo momento. I just haven't met you yet Salutiamo gli amici del Diamond Class, invitiamoli a tornare qui perché ci sono loro ma tutti i personaggi di Made in Sud. E un saluto agli amici di Notti Brave. Ciao a tutti gli amici di Notti Brave, un saluto. Tornate qui al Diamond perché c'è una grande programmazione con Made in Sud il sabato sera, però tornate sempre, venite qua, lunedì, martedì, pur quando è chiuso, venite. Insomma, se cercate una notte brava, venite qui al Diamond. Qua, qua, qua. Ciao.